Nessuna convergenza e nessuna scialuppa di salvataggio per l'amministrazione comunale. Con una nota, i consiglieri comunali ripostesi del Partito Democratico chiariscono la loro posizione alla vigilia della seduta consigliare di questa sera in cui si discuterà di un piano di lottizzazione e delle osservazioni al piano particolareggiato del centro storico. I consiglieri del PD, si legge nella nota, effettuano in piena autonomia le loro scelte sulle questioni di competenza del Consiglio Comunale e le confrontano nella sede consigliare nella più assoluta trasparenza con quelle delle altre forze politiche senza privilegiarne alcuna. Se si forma in Consiglio Comunale sui temi in discussione una maggioranza, si legge ancora nella nota, questa adotterà la deliberazione che può essere di approvazione o di rigetto o di rinvio delle proposte sottoposte all'esame del Consiglio. Nessun dialogo, quindi, ribadiscono i democratici ripostesi con il Sindaco e l'Aggiunta che per legge non hanno competenza alcuna sui piani di lottizzazione attribuiti dalle vigenti disposizioni alla competenza del Consiglio Comunale. Intanto è in fase di pubblicazione il regolamento per le riprese del Consiglio Comunale che risolverà il problema delle dirette streaming delle sedute.